Musica Benvenuti al villaggio di Natale di Panicali Ambienti Oggi vi parlerò di un tema a noi molto caro. Sono due personaggi che piacciono a tutti, dai bambini ai più grandi. Sto parlando della ballerina e dello schiaccianoci. Quest'anno non abbiamo saputo resistere e abbiamo invaso il nostro showroom di schiaccianoci di tutte le misure, di qualsiasi materiale e ballerine anche. La favola dello schiaccianoci e delle ballerine ha fatto sognare tante persone e quindi abbiamo voluto ricreare proprio un albero a tema. In questo albero stilizzato e luminoso abbiamo inserito tutti gli oggetti che richiamano questa favola. Quindi ci sono ballerine in tutte le posizioni di danza. Potete notare con dei dettagli veramente fantastici, dal tutù con le piume ai body glitterati e con pietrine minuscole. Quelle decorazioni un po' vintage, un po' nostalgiche, che ripropongono le punte, le scarpette di danza. E insieme a questi elementi abbiamo inserito proprio lo schiaccianoci. Anche le ballerine, come potete vedere, sono in vari oggetti, in vari materiali. L'oggetto sicuramente che dona un po' più un'atmosfera, ecco, così un po' più calda, è proprio il carillon. Può essere un bellissimo regalo per una bambina, ma perché no anche per una persona un po' più adulta, perché comunque questi oggetti ci fanno sempre pensare un po' alla nostra infanzia. Come potete vedere, abbiamo l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli schiaccianoci. Oltre alle dimensioni più o meno alti e più o meno magri, una caratteristica è anche che si illuminano, come per esempio questo, e quindi anche posizionato in un angolo della casa, comunque risulta un complemento d'arredo molto carino. E allora vi aspettiamo nel villaggio di Panicali Ambienti, e vi ricordo che siamo aperti tutti i giorni, compresa la domenica. Grazie a tutti i giorni, compresa la domenica.